I dati sul mercato del lavoro a Trieste, diffusi ieri dalla regione, secondo i quali si assiste da quasi un anno a questa parte a una crescita tendenziale nelle assunzioni, in particolare di giovani, non convincono Roberto Cason, consigliere comunale della lista di piazza, ma di professione e consulente del lavoro. Quanto esposto dall'assessore regionale Loredana Panariti, afferma Cason, e cioè che nel secondo trimestre di quest'anno le assunzioni sono cresciute del 54,2%, mi lascia quanto perplesso e prima di tutto vorrei conoscere la fonte di questi dati. La regione dovrebbe innanzitutto dimostrare come ha ricavato i dati, i dati dovrebbero essere illustrati e trasferiti dall'Istat alla regione, io personalmente verificherò anche come consulente del lavoro esercitando questa professione se effettivamente questi dati corrispondono alla realtà. La percentuale del più 43% di assunzioni a Trieste mi sembra del tutto inverosimile, continua Cason, perché se ovviamente in linea di principio concordo con l'assessore sulla positività di una graduale riduzione della disoccupazione giovanile, va sottolineato che la soddisfazione deve discendere dalla esatta comprensione della natura dei rapporti di lavoro che si vengono a creare. Sappiamo perfettamente che dal momento in cui sono stati aboliti i voucher, questi si sono trasformati in contratti di lavoro precari, quali ad esempio il lavoro a chiamata, che prevede semplicemente una comunicazione al rispettorato del lavoro nel momento in cui un dipendente deve prestare la propria attività. Questo si evidenzia principalmente nei pubblici esercizi, quindi chiederemo di disaggregare i dati in modo da approfondire e fare luce su questo aspetto.